Per cosa, Quintillo, verrai ricordato? Di avere appena venti giorni governato? O perché fratello dell'invitto e più celebre Claudio, alla cui morte fosti dal suo esercito acclamato, poi però abbandonato, perché preferito al più audace e carismatico Aureliano, che già marciava in direzione dell'Italia verso il Senato che aveva in te sperato? O tu non conoscevi brama di potere, tu moderato, tu nobile e per bene, tu onesto e saggio, per questo andresti ricordato e non per altro che non ti rende omaggio. Al diavolo l'impero e lo smodato, desiderio di comando, a sorgere alla gloria la grandezza effimera di Roma, preferisti morendo risparmiare altre stragi, altre inutili morti di soldati, preferisti perire tagliandoti le vene, anziché attendere finire come gli altri assassinato. Quest'oggi infatti a te sarebbe capitato per mano di Aureliano, a lui domani ad opera di qualcun altro.